Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GeneticDNA e a quest'ottavo appuntamento con DeathSpace. Ora dovremo pulire questo binario e fare questo puzzle. Poi vedrete questo gameplay mentre io forse sono già arrivato a destinazione per il Weekend Folle e quindi adesso posso anche dirvi dove vado perché tanto il festeggiato è con noi e non potrà vedere poche parole. Siamo partiti stamattina, ovvero sabato 1 giugno, verso le 8, per andare al Mugello. Eh sì signori, faremo due giorni al Mugello con tanto di tenda, beveraggio, alcol e Gran Premio di MotoGP. Sempre se la domenica ci alziamo in tempo per vedere il Gran Premio, ma penso di sì dai. Speriamo che il caro Valentino Rosi faccia qualche cosa di bello. Ok, intanto io qua sto cristonando per fare sto puzzle. Sperché devo sempre liberare io i binari. Questo gameplay lo metto a uploadare verso le 7.40, quindi penso che verso le 10 voi potete già vederlo. Ma noi saremo già oltre confine, quindi avremo il roaming disattivato venendo dalla Svizzera, quindi non potrà sapere che ho detto ciò. Oh, oh, che cazzo era? Equipaggiamo il mitrozzo col fucile a pompa! Che cattivissimo, basta un colpo per ucciderli. Oddio, che cos'è? Ehi, 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 ehi. E tu? Vaffanculo, muori. Anche tu, muori. Vedete che potenza questo fucile a pompa, ne basta un colpo, oh cazzo. Un bel colpo assestato e lo viedello. Che è? Dove sei? E io vado di qua, e io vado di qua, e tu vieni anche tu di qui, boom! Per sicurezza. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, vediamo cosa possiamo fare qui. Perfetto, scarichiamo tutto quello che dobbiamo scaricare. Questa puntata sarà un po' lungona. Non ho capito perché sono... Vaffanculo, eccolo qua. Quindi mettiamo, mettiamo, mettiamo. Mi serve il danno e la ricarica. Dov'è? Qui? Ah, perfetto, posso mettere la combinata. Yeah. Ricarica più danno. Yeah, perfetto. E qua sotto, nel secondario, che sarebbe il pompa. Questa arma qui è fighissima. È una di quelle che ho creato io. Con i materiali trovati in giro. Evangelizer. Penso che i materiali facevano parte del DLC, però non mi viene una chechete. Oddio, santissimo, parla, madonna, cina, beh. Ah, un... Cubo. È rimasto incastrato nella centona... Uo, è sparito. Sì. E non sempre rimanga. Oh, cazzo. Ah, merda. Oddio. Si fermerà? Fermati, cazzo. Fermati. Oddio. Fa culo. Vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Poco male. Terra nuova. Sì? No. Arrangiti. Ehi, Tuck. Non sono Tuck. Ci sei? Va al diavolo, Sam. Il mio lavoro era portarvi qui, non farvi da babysitter dopo l'arrivo. Sei un bastardo, Tuck. Lo sai, vero? Discendo da una famiglia di... E niente cosa. Vabbè. Comunque. Ragazzi, se siete a corto di munizioni, ricordatevi del modulo cinetico. Sì. Ho trovato questa registrazione sulla stazione Titan. Mh. Chiunque sia in ascolto, attenzione. Puoi usare il modulo cinetico per lanciare le lame nei cadaveri addosso agli altri. Guarda. Guarda. Sì. Il problema è che non stanno fermi ad aspettare che tu li miri. Questo trucco ha funzionato. Visto? Rilanciagli le lame. Eh, rilancio le lame. Tra lalero, tra lalà. Oh, cazzo, vaffanculo, la. Muori. Bombasso. Quanto è figa questa arma. Cattivissima. Ma io qua sono già... Mi danno troppo mediback. Oddio. L'immortale nooo. Lo riconosco dalla faccia. Da culo. Ah, mi culo. Oddio. Perché mi porto dietro il bombolo... Oh, oh, oh. Purca troia. Ecco perché mi porto dietro il bombolozzo. Oddio, l'immortale ma di merda. E poi se sono bianchi. Sono gli immortali della neve. Oh, cazzo. Sciobballo. Oh, guarda come salta. Yeah. No, mi ha bloccato. Non riesco più a passare. Merda. Siiuto. Oh, no, 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 no. Sei giù, sei giù. La cuccia lì, buono, buono, buono. Eh, non si distrugge. Via, 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 via. Ok. Oh, la miseria. Guardate quanti bibitoni che ho qui. Cazzo, santissimo. Vabbè, posso morire duecento volte. Chi se ne fotte. Andiamo. Oh, no, 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 no. Sta lì. È buono. È buono. Ehi, ehi. Sta lì. Un po' no. Aprivi. Ehi. No, muori, pezzo di merda. Ecco. No, è ancora vivo. Ahia. No, è di kit. Perché? Che cazzo era? Oh, la santa. No. Ah, che cazzo è? Oddio. Lasciami. 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 Oddio. Il trasporto arriverà a presto. Si prega di attaccare. Oddio, ce ne sono due. No. Non so. No, 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 no. Validetto immortale del cazzo. Ma cos'è? Oh, mamma. Oh, mamma. Dove è il suo treno di merda? Eccolo. Via. 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 Porca vacca, porca vacca, porca vacca, porca vacca, porca vacca. Dino come odio queste mostri. OK, sono arrivato al trasporto. Sembra che si fermi alla stazione centrale e a Poppa. La navetta si trova alla stazione di Poppa. E la stazione centrale? Beh, quella sarebbe la torre di comando. Ehi, questo è interessante. I registri indicano che diversi utensili e altri materiali sono stati prelevati dal magazzino da un certo tenente a Karek. Grazie. Se ci vado ti faccio sapere. Isaac, chiudo. Ok, praticamente la missione principale è a poppa e poi praticamente invece in mezzo... Erivo a torre di comando. Ecco, la torre di comando è una missione opzionale, quindi adesso faremo una missione opzionale. Ok. Avete visto un piccolo scattino perché... Questa missione qua... Ok. 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 Questa missione praticamente l'avevo già registrata con un altro profilo, quindi l'inventario sarà un po' diverso. C'è ancora un altro slot, scusate. Vedete? È un po' diverso la voglia. Ok. 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 Bazzetti lì, vediamo se riesco a capire. Niente. Vabbè, pensavo che mi diceva. Che culo. Minchia. Vabbè. Ti vedo. Ma va? E così sei riuscito a superare il mio blocco. No. Immagino che tu non sia uno di quegli imbecilli dei tirapiedi del generale allora. Ma non credere di aver già fatto, eh. Anzi, sappi che quella era la parte facile. Sì. Credimi, la tua giornata sta per prendere una brutta piega. Sapessi la tua. Eccola qua, missione opzionale. Torre di comando. Perfetto. E tu, scendi giù da lì, stronzo. Un po' potenzio, pari un pompino, pari un pompino. Ma come sei morto subito, stronzo. Eccoci qui. Ehm, tu. Scendi giù. Sacchete. Ehi, ehi, ehi. Ehi, stai qua, no? Ehi. Telecamera. Ancora un biebitone. Te, 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 te. Ecco lì, vabbè. Lo scopro il momento che ho imparato a guardare in alto, perché sti figli di troia sono anche in alto. Oh, oh. Ah, che cazzo vuoi? Stupido, sei scemo. Eccoci, 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 eccoci. I soldati infetti sono stati portati quassù per essere conservati al sicuro. Tu vorresti ficcarmi un proiettile in testa, ma io ho un esercito che te lo impedirà. Ma, succa. Oddio, perché qua mi danno sta... Oh, oh. Quando vedo qui barilotti di stasi non mi piace per un... Niente. Oh, madonna. Mettiamolo qui, va. Oddio. Oh, perché? Ci sono qui barilotti di stasi che non mi piacciono neanche un po'. Allora. Certo. Sì, sì, come no? Ottimo, direi. Ah, 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 ok. Oh, cazzo. No. Come? No, no, no. Quali esplosivi? Oh, cazzo. Oh, mi ha messo anche la musica. Che va a passo. E, ye, tu, ba, da, ba, tu, tu, tam, bam. Da lì, da buono, da cucciare, stai caldo. Oh, cazzo. Oh, merda. Oddio. Sono giovane. Sì, sì, in culo a tua sorella, ma tutto bene, toff. Oh, crepate, pezzi di minchia. Cazzo santo. Dove sei, maledetto bastardo? Dove sei? Ti vedo, ti vedo, ti sento, ti vedo, ti sento, ti sento, ma non ti vedo. Ma va? Eccolo. Dov'è? Ah, ecco di qui. Ma vai a fare in culo. Eh, vai a cagare, pezzo di cazzo. Vieni qua. Oh, 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 zaccati. Bam. Ma va a fare in culo. Ma va a fare in culo. Cos'era? Ah, quei cosigni di merda, piccolini. Eccolo lì. No, dove vai? Oddio. Oh, cazzo. Vai a cagare. Oddio. Ma tanto. Muore. Eccolo. Dai che lo violiamo, lo violiamo, lo violiamo. E vai. E uno. E due. Eh, ma va a fare in culo. Lasciami, pezzo di merda, l'acido. Cazzo. 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 Ma vai a fare in culo. Dov'è? Ok, ce li riproviamo. Ma porca la vacca, merda. Di dove cazzo? Dai, affanculo. Stupido bastardo. Oh, Cristo. Veloce. Uno. Due. Due. Tre. No. Bene. Yes. Ma che cazzo li segnalo? Ok. Ecco il bastardo in alto. Sì, giù. Uhuh. Dove sono i figli di puttana? Eccolo lì. Dov'è l'altro? Eccolo. Ti piace uccidere tutto quello che si muove? Sì. Mi sta bene, ma il tuo arsenale adesso è completamente inutile. Non puoi colpire l'elettricità. Ah, elettricità. Qual'elettricità? Di che cazzo di elettricità parli? Vabbè. Ah, scuola. Ah, baffanculo. Ok. Tut, 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 du. Dun, 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 dun. Ah. Vai, robottino. Sarà quello di gialla? Sì, però io non voglio Sparcare munizioni per quello Se prendo uno di quelli Ecco Spariamo la centralina Ecco Oh, che culo, ragazzi Ah, che bello Eheheheh, simpatico Vieni qua Ma cosa cazzo Santo, beh Oddio Ah, no Ah, nessuno Merda Caffa il culo Oh, che cazzo 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 Ah, non cazzo Oh, che cazzo Ah, che cazzo Sì! Eh, crepa. Ecco, figlio di puttana, c'hai ragione. Maledetti. Dove è andato? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Hmm. Cazzo. Oh, cazzo. Edwards ha creato anche un pozzo gravitazionale. Sì, ho visto. Ho cercato un picco nei consumi del controllo ambientale quando si è attivato. Deve essere da lì che preleva energia. Il controllo ambientale non è lontano. Eccoci qua. Ok ragazzi, questo gameplay si interrompe qui e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao da GeneticDNA. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo.